Anche i pazienti con età superiore ai 55 anni possono essere trattati in maniera efficace per l'infezione da HIV e quanto evidenziano i risultati della corte BICTEL che ormai è giunta ai risultati a 96 settimane e che vengono presentati durante il congresso ICAR 2022. Ne parliamo con la professoressa Gabriella De Torre dell'Università La Sapienza di Roma. Professoressa perché è importante lo studio di corte BICTEL? Cosa c'ha di nuovo, di significativo? In questo momento della storia nella gestione dell'infezione da HIV risulta particolarmente importante da parte del clinico, quasi direi sfidante, identificare lo schema terapeutico che meglio si adatta alla persona. Noi secondo le linee guida abbiamo diverse opzioni terapeutiche che possiamo identificare, ma tutto ciò che è segnalato dalle linee guida viene fuori da studi che hanno arruolato pazienti di età media di 40-50 anni e non oltre. Quindi focalizzarsi sulla popolazione anziana è sicuramente un dato aggiunto che aiutano i clinici, come ho detto all'inizio, nell'identificare il regime migliore per quella persona, non solo in termini di efficacia virologica ma anche in termini di controllo delle malattie non trasmissibili, quindi di quelle malattie che sono causa di patologia nel 70% della popolazione generale e che includono le malattie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche. Professoressa, prima di addentrarci sui risultati dello studio, quali sono i farmaci che sono stati valutati? Nella corte Bictel è previsto lo studio di soggetti che venivano da regimi terapeutici più svariati e che modificavano il regime con Bictegravir, Entricitabina, Tenofovir alla Fenamide, quindi un regime a single tablet. Senti, professoressa, qui a ICAR sono stati presentati i dati dello studio a 96 settimane, cosa ci indicano? In un'analisi ad interim nell'ambito della corte Bictel abbiamo verificato cosa è accaduto nei pazienti arruolati appunto nella corte Bictel over 55 e a 96 settimane abbiamo raggiunto l'analisi di 63 soggetti. Ebbene, abbiamo potuto verificare che la soppressione virologica è raggiunta in tutti e 63 pazienti, in tutti e 62, tranne uno il quale ha mancato di aderenza, quindi non ha avuto una buona aderenza e quindi il risultato viremico. Ma l'obiettivo della corte Bictel è non solo vedere il risultato virologico, ma anche vedere la risposta immunologica è il profilo metabolico e quindi ciò che abbiamo potuto appurare a 96 settimane su questi 63 pazienti di cui ritorno a dire uno ha presentato il fallimento virologico è un buon profilo metabolico espresso in termini di riduzione di colesterolo totale e aumento di HDL. Un altro dato che è sicuramente importante proprio nella gestione a lungo tempo della paziente HIV positivo è il livello di immunattivazione. Ebbene, in questa corte a 96 settimane abbiamo verificato che il rapporto CD4-CD8, che oggi è il marcatore più accreditato in termini di immunattivazione, è risultato aumentato. In definitiva che messaggio ci viene per la pratica clinica quotidiana? Qual è il take-home message, come si usa dire? Il take-home message che viene quindi da questa corte Bictel è che la scelta di una terapia a singola compressa che contenga però tre molecole è sicuramente un regime efficace e sicuro nella persona che va avanti negli anni. Ancora di più l'identificazione in questa molecola di una sicurezza nel lungo termine aiuta il clinico nella scelta ottimale per la persona HIV positiva.